Internazionalizzazione è la parola d'ordine per le imprese, anche piccole, che sono strette nella morsa della crisi. La Camera di Commercio di Pescara e Unicredit, per sostenere il comparto, si uniscono e offrono servizi e formazione per aprire nuovi mercati. Stamattina presentiamo tre paesi dell'Est, l'ex Cortina di Ferro, tre paesi che provengono dall'influenza dell'ex Unione Sovietica che hanno trovato attraverso il mercato europeo grandi opportunità e grande sviluppo. Stiamo parlando di paesi all'interno dell'Unione Europea che nel 2014 sono cresciuti con una media di circa il 3% di PIL. Dopo due anni dall'avvio Unicredit stila un report sulla domanda delle imprese abruzzesi sulle necessità riscontrate e sulle offerte messe in campo per formare imprenditori internazionali. Negli ultimi due anni abbiamo accompagnato 70 aziende che non esportavano o esportavano in modo marginale accompagnandoli con nuovi finanziamenti. La richiesta è tanta perché a fronte di una domanda interna che non ha segni di ripresa il volume dell'esportazione invece aiuta. Cosa ha fatto di concreto Unicredit per le aziende? Abbiamo fatto una Export Business School in cui abbiamo offerto a 100 aziende del territorio un corso di una settimana in collaborazione con la Bocconi proprio sulle tematiche dell'esportazione. Abbiamo organizzato due B2B in cui abbiamo noi scelto le controparti interessate all'acquisto di prodotti e le abbiamo messe in contatto con le aziende italiane, quindi senza che queste dovessero andare all'estero pagarsi la fiera, il traduttore, ma abbiamo fatto tutto noi qua a Pescara e a Lanciano. Quindi queste sono iniziative molto concrete.